La stella verde, i sub-seriani sanno che sono morti, la battaglia è l'unico mezzo per avere una speranza di vita, gli egiziani invece, sanno che saranno morti, se perderanno il loro centro di gravità, la diga di Hassan ed il bacino artificiale Nasser, la stella verde, un grande libro romanzato, che racconta i fatti, che porteranno alla battaglia per Hassan.